Hola Lucia Dores e palpeggiatori di Parallelepipedi, ben ritrovati dal vostro Silver, siamo qui come sempre su The Witness, come sempre, come quasi sempre, visto che ogni tanto giochiamo anche ad altro, e come promesso mi sono dato da fare a ragionare su questo enigma e ho riprovato a cacchi miei a sovrapporlo e scomporlo e sconfinferarlo, non riuscivo a trovare una soluzione ma in realtà bastava avvicinarsi forse un pochino di più, ecco, no, non mi ricordo neanche più come l'avevo fatto, pensate come sto messo, così, così, ora proveremo a vedere se funge e uiwa, ora la domanda è, no eh, pareva troppo, allora, se tanto mi dà tanto, e di solito tanto mi dà tanto ok è che ce la facciamo perché come sappiamo questo simpatico giochillo se può metterci in difficoltà lo fa allora, così, dovrebbe bastare basta un centimetro fuori posto e le cose non vanno come devono cioè, proprio questo mi ha spiazzato questo mi ha proprio spiazzato devo rifare questo, logicamente cazzarola non me l'aspettavo proprio che mi cestinasse la proposta quindi ci sarà un'altra soluzione? vuoi vedere che questo ramo rotto andava a coprire tipo una cosa qui perché di qui no, perché spezzerebbe due rami rotti cominciamo a provare con uno e poi vediamo o così no per quello che tentennavo perché ogni volta che sbagliamo quello ci dobbiamo pure rifare questo per la serie Megoyoni e intanto che facciamo questo io so sempre lì a chiedermi d'onde giungi? d'onde? d'onde giungi? e questo la dedico ad Andrea che si diverte un casino quando faccio così eccolo, 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 eccolo che scemo che scemo che scemo che scemo che sono era lì era lì che mi guardava l'altro ramo rotto è qua qua quindi il dubbio era non solo confermato ma anche vedibile mi sono perso qualcosa per strada eh, scusate se i due rami rotti sono uno qua e uno qua sgrunt posso dire sgrunt allora ecco adesso non mi ricordo più quale ho fatto prima quale ho fatto poi va bene va bene va bene cerchiamo di mantenere un attimo di calma seduta stante allora scusate questo poteva interrompere solo qui perché se spezza qui non possiamo più andare di là e questo interrompendo questo mi inibisce questo e dobbiamo girare di lì quindi è una cosa tipo questa e prima non avevo fatto così ok faremo finta di aver capito i nostri errori e poi parleremo insieme di cose belle in un posto migliore bene questo complica non poco le cose aspetta però ci possiamo arrivare i stessi è un zigzaggo cerca un mago ok quindi devo farlo speculare assolutamente speculare quindi devo fare a destra il primo quindi destra giù speriamo di aver sì sì sempre un briciolino di goduria per lo zio silver wow siamo riusciti a entrare sì ma ora bene è stato un piacere che il pannello è fuori ma che cazzo cioè io devo fare il giro dall'esterno per aprire una porta per uscire ma ha senso la cosa a me non è che mi convinca proprio tanto però d'altronde mi farò mi farò delle domande poi con gioia con tanta gioia ci metterò anche della cupidigia della cupidigia vanvera e del rancore un pizzico di rancore che sta sempre bene ok questi erano gli enigmi che avevamo visto l'altra volta e e oh Houston abbiamo di nuovo un problema non posso neanche usare la visuale periferica la posso usare la devo usare ma baffa stavo già dicendo non posso neanche usare la visuale periferica perché ci sono i sazi che mi occludono la visuale si ok ho aperto questo wow eravamo già qui però è buon ricordo dovremmo aprire questo in teoria ma la domanda è devo semplicemente scendere vediamo vediamo se andando sopra ho accesso alla verità alla vera e virulenta verità forse chissà da qui mi sembra di no forse qui e forse qua questo mi sembra il punto più sensato fino ad ora vediamo quindi tutto ha un senso allora però prima di scendere andrei a controllare di aver fatto tutto di qui perché non riesco a capire il senso di questa shortcut e qua ne abbiamo ancora una marea no funziona ancora lo stesso modo tutto alla vecchia maniera una roba così strana cosa però è la prima zona dove più o meno tutti gli enigmi paiono risolversi allo stesso medesimo modo ok infatti mi ci puzzava mi ci puzzava questo è esteticamente bellissimo se mi è concesso dirlo non ho ben capito quanti sono fra l'altro stavo facendo anche un giro mentale delle parti che non abbiamo ancora esplorato perché purtroppo io mi ricordo di aver preso un altro esagono ma non ho avuto l'accortezza di segnare con carta e penna il disegno o se l'ho segnato non lo trovo più e soprattutto ciccia allegra non mi ricordo dove l'ho preso quindi dovrò andare a cercare fra i video del silver quel noto youtuber fastidiosissimo dovrò trovare nei video del silver la risposta ai miei quesiti ok quindi questo dovrebbe essere tac 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 2 2 e zig zag vediamo eh 2 e zig zag no no ho intuito proprio male 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 ah ok ok forse ho intuito giusto ora no così ok ora mi è tutto ora mi è tutto più chiaro e stavo dicendo appunto dovrò andare a recuperare le chiavi esagonali perché non le ho e la cosa non mi conforta per niente anche perché le voglio perché quella zona là sotto con i video è fantastica però appunto ho fatto mente locale del percorso che ci attende e fico è fico però però aspetta un attimo non mi torna qualche cosa qui vediamo se non sono convinto però troppo spazi troppo larghi infatti no devo trovare un'altra soluzione oh ok questo 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 però devo capire ah c'è un rametto a zig zag ok allora sinistra si ricongiunge lì quindi lo zig zag ha la prima a sinistra sì e lo piazzerei in mezzo lì vediamo se ho no però aspetta tac tac due giù tu ok e lo zig zag lo provo a piazzare lì allora se non ho capito male due andrei di qui poi due li metterei di qui così sono mica tanto sicuro di aver fatto le cose giuste è lì dove c'era il zig zag no giù yeah grazie 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 rametti vi voglio bene vi voglio bene avevo visto giusto lo zig zag dove mancava eeeh felice io va bene luce adores festeggeremo poi nel prossimo video dove andremo a esplorare la parte posteriore che è sempre bello da dirsi e ci vediamo alla prossima ha 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 ciao ciao